Va bene Sly, ecco il tuo obiettivo. Entra di soppiatto e rompi la vara della sacerdotessa malefica dei lupi. Mi sembra un trattamento un po' drastico, se lo merita davvero. Non mi hai sentito? Era una sacerdotessa malefica! Rompendo la vara libererai tutti i fantasmi intrappolati insieme a lei. Ok, non capisco dove vuoi arrivare ma l'idea di liberare fantasmi prigionieri mi sembra quasi eroica. Oh! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti